Questa è di recente, allora potrebbe essere o l'istrice o il tasso, non credo che sia l'olp, perché l'olp fa i buchi più stretti che non possono accedere gli altri animali. Non mi sbaglio, guarda Gianni, le grandi scoperte, guardate la storia Gabriele, questa è interessante assai, esatto, guarda qua, oh, ecco, ecco si è andata, la mappa da una, aspetta ma questa dove volevo fare? Sì, ma questa è stata tutta scavata, il movimento terra ci sta a fare spavento. Gabriele, ma il primo buco c'è una strettoia? No, finisce, 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 no, aspetta, il primo buco c'è una strettoia, oltre non si può andare, praticamente si dovrebbe... Tu non puoi andare, allora sì. No, eh sì, o si dovrebbe rompere, sì, c'è una strettoia, hai ragione, non so proseguire. No, no, di qua sta qua, il primo buco, esattamente qui. Eccola, la mappa da una. Tu guarda qua, qua non ho lasciato un paio di guanti, eh. Sono miei. Sono trovi, li riprendo? Allora, allora, andonecchi qua.